Grazie all'illuminazione verrà salvaguardata l'incolumità di ciclisti e pedoni che sempre più di frequento usufruiscono del tratto diciclabile Fanno Fosso 6 ore. Potranno essere evitati quindi incidenti e anche mortali come successo a giugno 2012 a causa della scarsa visibilità. E come annunciato dal direttore tecnico di Azet Spa Marco Rumei, a distanza di quasi 5 anni dall'inaugurazione verrà completata la parte riguardante l'illuminazione entro il mese di maggio. Infatti termineranno i lavori che prevedono l'installazione di 165 luci nei punti di cablaggio già esistenti. L'intervento riguarderà 4 km di pista mentre l'iter cominciato a fine dicembre 2014 ha coinvolto per sopralluoghi e autorizzazioni il comune di Fanno, la rete ferroviaria italiana e l'ANAS. Inizieremo i lavori il 4 maggio e intendiamo concluderli entro il 30 maggio quindi in poco più di tre settimane dovremmo realizzare finalmente l'illuminazione pubblica della pista ciclabile da Fanno a Fosso 6 ore. E la cifra per i lavori a quanto ammonta? La cifra complessivamente sarà intorno ai 100 mila euro, poco più, comprensiva sia della fornitura del materiale, pali e armature di illuminazione a led e la posa in opera. Quindi da giugno avremo l'illuminazione finalmente di tutta la pista ciclabile. Proseguono intanto i lavori iniziati il 13 aprile scorso nel centro storico di Fanno per l'intervento di bonifica della rete idrica, un'operazione importante e non ulteriormente prorogabile che consentirà ai cittadini di contare su reti rinnovate e tecnicamente sempre più efficienti. Diciamo che la zona che interessa adesso i lavori, quindi appunto il corso Matteotti da via Arco d'Augusto a via Garibaldi verrà divisa in tre stralci, il primo stralcio appunto è addirittura d'arrivo. Diciamo che si concluderà presumibilmente alla fine della prossima settimana, a tempo permettendo, dopodiché appunto passeremo al secondo stralcio che è anche quello abbastanza invasivo in quanto arriverà poi in piazza 20 settembre. Quindi sostanzialmente partendo dalla prossima settimana siamo in linea con i tempi e contiamo di concludere anche il secondo stralcio verso la fine di maggio, 20-25 maggio.